Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, l'anticiclone è tornato ad espandersi verso la nostra penisola determinando condizioni di tempo stabile in questa prima parte di settimana, prima di un nuovo peggioramento atteso proprio per il ponte dell'Immacolata. Se del possibile ritorno di freddo e neve ne parleremo in un video a parte, vediamo quali sono le previsioni meteo per dopodomani, giovedì 7 dicembre. Al mattino tanto sole sull'Italia salvo qualche nube localmente compatta sul versante tirrenico centrale e sulla pianura padana, isolate pioviggini solo tra Licuria di Levante e Alta Toscana. Qualche pioggia e pioviggini continuerà a bagnare queste zone al pomeriggio, mentre sul resto della penisola il tempo rimarrà asciutto come anche prevalentemente soleggiato. In serata e poi in nottata la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare sull'Italia, ad iniziare dai settori occidentali. Sono attese sempre delle piogge tra Liguria e Toscana, ma anche al nord-est, come poi sulle Alpi Piemontesi e Valdostane, con la neve che cadrà a quote medie. Per quello che riguarda le temperature, queste tenderanno ad aumentare nei valori minimi, mentre le massime non subiranno variazioni di rilievo. Continuate a seguire tutti i prossimi aggiornamenti sia scaricando la nostra app Meteo o sia visitando il nostro sito, dove troverete tutte le previsioni dettagliate per le vostre località. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.